Sicuramente questo mondiale lo stiamo preparando curando veramente tanto i dettagli, i particolari e tutti e 44 che siamo fondamentalmente qua, io in primis come tutti gli altri miei compagni ci siamo dati un'idea, un unico focus che è quello di riuscire a essere la miglior squadra italiana di sempre fare il miglior risultato che una nazionale maggiore italiana abbia fatto al mondiale e penso anche comunque nel complessivo che sia arrivare ai quarti di finale del mondiale quindi io penso che al di là del singolo e comunque in primis vuole esserci a questo appuntamento che non capita tutti i giorni, sia proprio quello di lavorare per l'Italia per far sì che si ricordi di questo gruppo più che del singolo ma del gruppo che ha fatto qualcosa che non era mai successo negli ultimi mondiali, in ultime edizioni sicuramente la speranza come tutto è, si può far finta ma non è che viene così, che nasce oggi speriamo di arrivare a battere le Sudafriche e fare i quarti di finale la speranza passa attraverso dei risultati e delle prestazioni noi in questi miei anni e mezzo con Connor e i due precedenti che ha fatto Connor abbiamo dato dei segnali al rugby che secondo me prima non si erano dati abbiamo vinto col Sudafrica, ce la siamo giocata con l'Australia abbiamo sei nazioni con l'Irlanda, con la Scozia, con il Galles, con la Francia, con ogni nazionale penso che abbiamo dimostrato di poter sperare di fare questa cosa qua perché se no saremo bravi tutti a dirci sì, dai andiamo là e speriamo penso che questa speranza sia una speranza veramente concreta e fondata quindi è giusto che ci crediamo tanto riguarda i punti che penso Connor abbia fissato quando è arrivato in nazionale io penso che semplicemente guardando la lista ci sono tantissimi giovani uno dei punti era quello di dare un futuro ai giovani, di poter mettere questa maglia con orgoglio e di fargliela poter mettere e stiamo penso guardando la lista non so quanti ma comunque tanti della mia età uno chi due anni meno addirittura, chi un anno in più, uno in meno veramente ci sono tanti giovani e soprattutto se pensi a quanti magari non sono stati convocati in questi 44 che era un altro punto di Connor, cioè la profondità di questa nazionale cioè dover veramente arrivare a questi appuntamenti qua e nonostante 44 che siano tanti nomi ce ne siano tanti altri che non sono stati scelti quindi veramente è stato fatto un lavoro sui giovani, sulla profondità di Rosa sulla speranza appunto per arrivare a questo mondiale qua che prima per me non c'era stata sicuramente oggi è il 3 di giugno del primo giorno effettivo di lavoro se guardi al mondiale che è fine settembre ottobre manca tanto manca tanto e però come ho detto sì la speranza va ma c'è anche del lavoro dietro la speranza se non si lavora duro poi ti manca quella cosa che devi mettere in campo quindi sì ci ha illustrato un po' in grandi linee quello che sarà questo giugno, questo luglio, queste due prime settimane saranno un pochino più blande più per studiare, capire come lavorare, che cosa lavoreremo ognuno avrà un programma individuale per arrivare a luglio che sarà il mese quello vero e proprio di carico dove ci si spingerà tantissimo per poi arrivare ad agosto con le quattro amichevoli che sono quattro amichevoli dure ma necessari per arrivare a sperare quando mettiamo la maglia per andare col Sudafrica di batterli insomma il 31 agosto sì mi sono avuto un gravissimo infortunio mi sono distrutto un ginocchio e pensare a quei momenti là e dire calzo oggi sono qua è una cosa che non avevo neanche pensato e messo in preventivo sì era il mio obiettivo però non sapevo se ce l'avrei fatta però adesso sono qua e sì come ho detto è stato un percorso veramente duro 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 e al di là del duro sto nuovo per me perché qua fondamentalmente ci sono arrivato per le mie capacità tecniche individuali che ho io non c'è mai stato magari quel lavoro duro duro al di là di questo rettangolo non ho mai dovuto magari prendermi troppo cura di me curare ogni dettaglio al di fuori del perché se non l'avessi fatto se non avessi messo attenzione in tutto da allenarmi ogni giorno allenarmi perfettamente a mangiare bene a fare 3.000 cose che andavano fatte bene non sarei stato sicuramente qua quindi per me non posso dire sì è una leggera vittoria anche per me in questo sport qua perché non ero mai stato distante dal campo da rugby per così tanto tanto tempo e ovviamente essere qua sono veramente felice perché al di là dell'opportunità che ho mancava mettere le scarpe a tornare in un campo e niente e stare qua con questo gruppo che come abbiamo parlato adesso è un gruppo veramente bello e ambizioso e con tanta fiducia anche secondo me la cosa fondamentale che mi porto dietro di questa cosa qua e penso che mi aiuterà tanto il mio continuo della carriera spero per tanti altri anni è quella di avere una routine costante no? di fare che se un giorno sono stanco se un giorno magari non ho voglia se un giorno mi faceva tanto male però se poco devo far quello ed era giornalmente dovevo farlo perché se no non arrivavo qua e questo vale anche qua cioè se io ogni giorno non porto qualcosa sempre a un certo tipo di livello quando devo ritornare a mettere la maglia non sarò all'altezza quindi questo mi porto dietro di questa cosa qua aver capito che giorno per giorno devo fare qualcosa e devo farlo non posso perché ho male perché mi girò la testa perché ero stanco 3.000 scuse che potevo trovare perché era brutto, era faticoso quando c'era freddo quando vedevo i ragazzi, i miei compagni giocare nonostante questo però mi sono sicuro che devo farlo andare là, allenarmi mandar giù e questo me lo porterò perché anche qua non sarà facile sarà come abbiamo detto faticosissimo, pieno di carichi ci saranno 3.000 scusanti che potrei dire un giorno oggi magari sono un po' più stanco ogni giorno deve essere fatto tutto al massimo e va fatto adesso fondamentalmente sono arrivato qua quasi abile a far praticamente tutto anzi posso far tutto l'unica cosa che non ho fatto è il contatto ma comincerò proprio qua ma per una questione di precauzione non l'ho fatto fondamentalmente qua magari avrò qualche tipo di lavoro in palestra o di fitness differentiato dai compagni ma farò bene o male veramente tutto quello che fanno loro anche perché se voglio esserci devo cominciare a lavorare duramente a fare quello che mi sta mancando a fare quello che mi sta mancando